Case allagate, qui siamo a Cernusco sul Naviglio e in vasi quasi a secco, questa è la diga di Rosa Marina vicino Palermo. Un paese diviso in due, al nord temporali anche intensi, mentre al centro ma soprattutto al sud, tempo asciutto e con temperature che superano i 30 gradi, una situazione per il momento stabile. Temporali attesi nuovamente per le regioni settentrionali tra il pomeriggio e la sera, più verso il tardo pomeriggio, perché si carica l'energia che arriva dal sole e genera queste nubi temporalesche, meglio sul resto del territorio, ancora con temperature alte sul meridione, dove però i valori termici scenderanno a partire da domani. L'Italia si estende in longitudine dalle Alpi a Lampedusa e quindi nell'ordine delle cose, che il nord sia influenzato dall'aria più fresca dell'Atlantico e il sud da quella più calda dell'Africa, ma il ripetersi con sempre maggiore frequenza di questi eventi estremi non va sottovalutato. La siccità in Sardegna e al meridione è grave e mette città e campagne in competizione per la risorsa acqua. La situazione peggiore è in Sicilia, che, ai primi di aprile, ha chiesto lo stato di emergenza e 720 milioni per interventi alla rete idrica. Un mese dopo, il governo ha accolto la richiesta e deliberato un primo finanziamento da 20 milioni.